Giulia ha sempre avuto il sogno dell'isola deserta e noi gliel'abbiamo regalata. Per Claudio, che è un tipo aperto, abbiamo immaginato nuovi modi di abitare. E poi c'è Gaia, che ha sempre un diavolo per capello. Abbiamo trovato posto a tutte le sue spazzole. Per Luca, il suo stile ricercato, abbiamo messo tutto a portata di mano. E per il matrimonio di Anne e Marco, abbiamo pensato anche agli anelli. I vostri desideri ci hanno fatto crescere. Dalla cucina al bagno, dalla cabina armadio al living, siamo diventati casa insieme. Scavolini, da 60 anni, la più amata dagli italiani.